Musica Benvenuti gentili telespettatori a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi 6 marzo è la giornata che celebra i giusti d'Europa. A Milano cerimonia al Parco Montestella dedicata, come ricorda il presidente della fondazione Garibo Nissim, al senso di responsabilità. Sentite. La giornata dei giusti quest'anno assume una caratteristica molto importante che è quella di spingere contro la rassegnazione. Io credo che ci debba essere un voto dello spirito per dire di no, perché quando tu dici di no allora cominci a pensarci. Credo che questo sia il messaggio della cerimonia di oggi. Memoria e responsabilità, l'esempio dei giusti davanti alle sfide del nostro tempo. È il tema che ha ispirato la cerimonia al Parco Montestella di Milano per la giornata europea dei giusti. Ad essere onorati Altiero Spinelli, Vera Vigevani Yara, Kayuri Dmitrev e Narges Mohamadi, come deciso dall'Assemblea dell'Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, formata dalla fondazione Garibo, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comune di Milano. Occasione per fare una richiesta al sindaco Sala. Io credo che sia importante che il Consiglio Comunale dia anche la cittadinanza onorale a Mohamadi, a Narges e a Dimitriev. Ecco, che appunto, fra l'altro, perché chiedo questo? Perché le due persone sono in carcere. No? Ecco, se noi diamo una cittadinanza morale a queste persone, no? Noi, una cittadinanza, noi li aiutiamo, cioè, li aiutiamo perché li rendiamo più forti rispetto al loro regime, no? Quindi credo che non, cioè, non dobbiamo appunto ricordare solo quelle che non ci sono più, anche se io oggi ritengo che la giornata dei giusti vada dedicata a Navalny, no? Perché, diciamo, è il simbolo della lotta contro quella che ho definito la rassegnazione, fatto di, come dire, questa sorte a nostra di cedimento morale, no? Quasi che noi pensiamo di tirarci fuori rispetto a tutto questo. Ecco, ovviamente Navalny è un simbolo, ma io penso che Milano deve dare la cittadinanza onoraria a queste due persone per dare loro solidarietà e quindi, fra l'altro, è l'occasione per appellarmi al sindaco di Milano, io speravo di vederlo oggi, no? In questa cerimonia, e però lo faccio qui, gliel'avrei detto se fosse venuto qui al giardino oggi, e gli chiedo appunto se la giunta di Milano può dare la cittadinanza onoraria a questi due giusti. Forte richiamo alle libertà che l'Europa tutela, purtroppo negate in molti altri luoghi del mondo, come nei territori del conflitto in Medio Oriente. Noi abbiamo un giardino dei giusti a Neve Shalom, no? A Neve Shalom c'è questo giardino che ha messo insieme israeliani e palestinesi, no? Ecco, 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 noi pensiamo che questo sia il modo di affrontare questo tema della pace, cioè la pace deve essere il fatto di dare sostegno a tutti coloro che possono essere da una parte e dall'altra, che fra l'altro chi lotta per la pace sia in Israele o sia tra i palestinesi viene considerato un traditore, questo succede così. Noi dobbiamo dare voce a tutti i traditori dei due campi, secondo me è questo quello che noi dobbiamo fare, cioè non vedere, perché qui appunto questa sorta di, diciamo, di due, ci sono ormai l'equip come il Milan e l'Inter, il filo palestinesi e l'israeliano, ma facendo il filo palestinesi e l'israeliano si finisce a nuove guerre, no? Quindi dobbiamo rompere questo schema, ecco, questo è il punto, e purtroppo tutte queste manifestazioni che ci sono state non hanno espresso questo punto, non hanno espresso né chi porta solidarietà a Israele e chi porta solidarietà ai palestinesi. Io credo che su questo ci sia un fallimento totale e allora noi dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Alla cerimonia la Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi. Oggi ricordiamo due donne e due uomini che rappresentano altrettanti esempi di coraggio, di generosità e di umanità. Giornate come quella di oggi servono da richiamo per tutti, soprattutto per chi ha responsabilità politica, e questo appunto lo voglio sottolineare, a far prevalere sempre le ragioni del dialogo e del rispetto verso chi la pensa diversamente. È polemica a Milano per le frasi pronunciate dal Consigliere Comunale, Segretario Provinciale della Lega, Samuele Piscina, in Consiglio Comunale, durante un suo intervento. Il consigliere leghista stava commentando i fatti avvenuti domenica nella zona di Via Padova e tafferugli tra manifestanti dei centri sociali e la polizia durante una protesta per una fiaccolata sulla sicurezza promossa dalla Lega nella zona e per la presentazione del libro dell'eurodeputata del Carroccio, Silvia Sardone. Durante la seduta in comune un consigliere di centro-sinistra aveva definito Via Padova un modello di integrazione e così Piscina è intervenuto per replicare. Lo ascoltiamo. Via Mosso è così adesso perché un'amministrazione a guida Lega, a guida centro-destra, ha voluto fortemente una cancellata che la passata amministrazione in Consiglio Comunale in realtà non voleva assolutamente. L'abbiamo imposta come Municipio 2 nel precedente mandato perché c'erano transessuali che sputavano sangue infetto addosso alle forze dell'ordine. Questo era quello che succedeva. Questo era quello che succedeva. C'era spaccio, c'era prostituzione. C'era questo, c'era spaccio, c'era prostituzione in Via Mosso perché questo è quello che accadeva in Via Mosso. La Polizia di Milano ha arrestato cinque persone per tentato omicidio dopo una violenta aggressione a Rogoredo. Avevano ridotto in fin di vita un 38enne albanese. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa nei confronti di cinque cittadini milanesi, di età compresa tra i 27 e i 40 anni, gravemente indiziati del reato di tentato omicidio in concorso commesso ai danni di un 38enne albanese. L'operazione di Polizia Giudiziaria, svolta dai poliziotti della squadra mobile, ha preso il via dopo la violenta aggressione subita dal 38enne, il 29 marzo 2023, in Via Montecengio e Via Monte Palombino, nel cuore del quartiere Rogoredo. L'uomo, rinvenuto dagli agenti delle volanti della Questura di Milano, privo di conoscenza sul ciglio della strada, fu trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. in stato di coma farmacologico. In ragione delle gravi lesioni multiple facciali e craniche, con diffuse emorragia cerebrale, la vittima fu sottoposta a due dedicati interventi chirurgici che ne scongiurarono la morte. La successiva ricostruzione del grave episodio delittuoso è stata il frutto di un'intensa e complessa attività di indagine condotta attraverso attività tecniche, analisi di numerosi filmati e acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti. L'attività investigativa, attualmente nella fase delle indagini preliminari, ha consentito di individuare in modo puntuale le fasi salienti dell'aggressione e di ricondurre alla stessa una precedente lite per futili motivi avvenuta tra la vittima e un conoscente, milanese di 38 anni, nel corso della quale entrambi si erano minacciati impugnando dei coltelli. Subito dopo la lite, il cittadino albanese si era allontanato dal posto per tornarvi, poco dopo con una pistola in pugno, rivelatasi una scacciacani, con il possibile intento di affrontare il conoscente. Giunto sul posto, tuttavia, avrebbe trovato gli amici di quest'ultimo, che dopo averlo disarmato provocando l'esplosione di un colpo, lo avrebbero aggredito con estrema violenza, riducendolo in fin di vita. Le due parti della prima lite, ovvero la vittima e il conoscente milanese, non presenti alla successiva aggressione, sono stati indagati per minaccia aggravata dall'uso di armi e la vittima anche per porto abusivo di pistola a scacciacani. A Milano una donna anziana è stata picchiata pesantemente da un clochard a cui avrebbe negato l'elemosina. È successo venerdì in via Carducci. Le foto dell'aggredita stanno facendo il giro del web. Guardate. Era stata soccorsa venerdì scorso, primo marzo, dopo essere stata trovata a terra da un passante in via Carducci. Poi ieri, l'anziana, 83 anni, ha presentato denuncia alla polizia sostenendo di essere stata picchiata a colpi di stampella e fatta cadere da un clochard con il quale aveva avuto una discussione perché le aveva chiesto con insistenza l'elemosina. Sui social sono subito finite le immagini dell'anziana con il volto tumefatto e una ferita alla fronte, il referto dell'ospedale in cui le sono stati dati 15 giorni di prognosi e la coppia della denuncia presentata al commissariato centro. Tuttavia, le prime verifiche sull'episodio svolte dalla questura non coincidono con questa versione, anche perché quel giorno c'era stato l'intervento di due agenti di una volante a cui l'anziana aveva invece spiegato di essere caduta da sola. Secondo il racconto riportato nella denuncia, infatti, l'83enne sarebbe stata avvicinata in strada da un uomo che le avrebbe chiesto con insistenza l'elemosina. Poi l'avrebbe colpita prima alla schiena con la stampella e infine con violenza ad una gamba facendola cadere sull'asfalto. Era stata poi una ragazza, notando l'anziana a terra, a dare l'allarme al 112. Gli agenti avevano raggiunto la vittima in ospedale e lei stessa aveva raccontato di essere inciampata da sola mentre si allontanava dopo aver avuto la discussione con i crociardi, l'ite nella quale, però, non c'era stata alcuna aggressione fisica. Non hanno ucciso per soldi e neppure per odio verso la vittima. Secondo i giudici, l'omicidio è stato commesso per gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro coesione. È quanto scrive la Corte d'Assise di Brescia nelle 98 pagine di motivazioni della sentenza di condanna in primo grado all'ergastolo per le sorelle Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, il trio criminale che, secondo i giudici, ha ucciso Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temu e madre delle due imputate. Secondo il presidente della Corte d'Assise di Brescia, Roberto Spanò, sono inesistenti sia il movente economico sia quello dell'odio da parte del trio nei confronti della vittima. No all'accessione del patrimonio di case popolari di Milano a fondi di investimento, a dirlo sono diverse sigle sindacali che chiedono al Comune di fare marcia indietro. Il Comune ha approvato una delibera in cui progetta di conferire in modo graduale tutto il patrimonio presente e futuro di Cera Delibera a fondi immobiliari gestiti da Invimit Sgr che è una società di proprietà del Ministero delle Finanze ma che opera con logiche di mercato. È il sindacato degli inquilini delle case popolari di Milano a richiamare l'attenzione sulle ricadute dell'operazione del Comune che con Delibera dell'11 gennaio scorso ha avviato la collaborazione con Invimit Sgr per istituire fondi di investimento per la valorizzazione la gestione e l'implementazione del patrimonio abitativo comunale presente e futuro un'operazione dicono i sindacati che metterebbe a rendita l'intero patrimonio senza calcolare le ricadute sociali di questo processo. Siamo contrari perché questo percorso toglierebbe la proprietà al Comune quindi non solo la gestione andrebbe in realtà a ridurre il numero di case popolari perché anche nei buoni propositi espressi nella Delibera si parla di 25.000 alloggi popolari quando oggi sono più di 27.000 e si andrebbe soprattutto a cambiare la natura si passerebbe da una natura sociale a una natura appunto di mercato a una natura di fatto privatistica con gravi rischi per gli inquilini che oggi vivono in questi stabili che potrebbero essere sottoposti a procedure di spostamento da un quartiere all'altro che potrebbero avere delle ricadute pesanti sul tema dell'amorosità incolpevole per i soggetti più fragili e nel contempo delle ricadute per chi tutti i giorni fa domanda di casa popolare. L'appello rivolto al Comune è quello di interrompere questo percorso e di aprire dicono un confronto vero nella città. L'appello è proposto dai sindacati inquilini ma hanno aderito diverse personalità del mondo della cultura dell'università associazioni che operano nei quartieri popolari per chiedere come di fermarsi di fermarsi e di aprire un dibattito vero dentro la città partire dai sindacati dai municipi dalle università perché stiamo parlando di un patrimonio troppo importante per la città di Milano per lasciarselo così portare via. Le occupazioni nelle scuole di Milano non si fermeranno promette l'Unione Studenti che chiede un incontro urgente con l'assessore regionale Simona Tironi intanto però si è conclusa nel pomeriggio l'occupazione al liceo Parini di Milano i ragazzi hanno lasciato la scuola pulita e in ordine gli alunni delle quinte hanno potuto affrontare le prove in balsi tre sezioni avrebbero dovuto affrontarle lunedì ma hanno trovato la scuola off limits le recupereranno a fine marzo sentite dopo i momenti di tensione di lunedì mattina culminata con un professore che sferva un'ombrellata per sfondare il picchetto dagli studenti e la direzione liceo Parini si è riaperto il dialogo e si è arrivati a un'intesa i ragazzi hanno dormito ancora a scuola per poi liberare i locali nel pomeriggio di oggi l'occupazione quindi finisce in anticipo in quanto avrebbe dovuto concludersi venerdì determinante è stata l'urgenza delle classi quinte di sostenere le prove in valsi obbligatorie per l'accesso alla maturità per i ragazzi è stata l'occupazione più partecipata dai tempi della zanzara lo storico giornalino della scuola accusato anche di oscenità nel liceo milanese che fu anche D'Alessandro Manzoni rimarrà impresso un gesto un'ombrellata anzi quella con cui un professore d'italiano ha provato a sfondare il picchetto all'ingresso un colpo diretto alle prime linee che ha sfiorato alcuni ragazzi tra cui il rappresentante degli studenti in consulta provinciale Filippo Spinelli 18 anni il prof ci ha incontrati dicendo che ci doveva le sue scuse ci ha chiesto perché l'avessimo dipinto come un aggressore ma noi non vogliamo aggravare la sua situazione condanniamo però la violenza queste le sue parole ha dormito nell'istituto anche il preside Massimo Nunzio Barrella nel suo ufficio considero l'occupazione antidemocratica fascista mi è scappato e forse era eccessivo i ragazzi hanno rispettato i patti mi preoccupa il fossato che si sta creando con i prof dovrò ricucire queste sono state le sue parole dopo il clamore suscitato dall'aver definito fascista al gesto del picchetto termine criticato anche dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri è definito fuori luogo da evitare le parole di Barrella incontrando invece l'opposizione del presidente di regione Lombardia Attilio Fontana che ha dichiarato le occupazioni sono da evitare da domani al 24 marzo al teatro l'Arcimboldi di Milano va in scena fashion freak show l'eccentrica scandalosa e divertente creazione dello stilista Jean-Paul Gaultier eccentrica scandalosa provocatoria esuberante e divertente come sempre la straordinaria creazione di Jean-Paul Gaultier fashion freak show è ora in tournée mondiale e arriva a Milano unica tappa italiana al teatro Arcimboldi in questa straordinaria produzione attori ballerini artisti circensi salgono sul palco per interpretare creature e personalità stravaganti passionali talvolta esagerate sgarbate sexy e impertinenti sullo sfondo un gigantesco video wall una parte fondamentale della produzione è costituita dalle storie di guest star speciali tra cui alcuni sostenitori e amici di lunga data di Gaultier Rossi de Palma interpreta l'implacabile maestra del giovane Gaultier che nutre segrete fantasie di moda mentre Catherine Denner legge gli isterici nomi che Gaultier dava alle creazioni della sua favolosa sfilata di alta moda maschile dei primi anni 90 autore regista e costumista Jean Paul Gaultier guarda i nostri tempi in modo stravagante e tenero e ci invita dietro le quinte del suo mondo fatto di eccessi poesia e magia per la sfilata concepita come una grande festa Jean Paul Gaultier ha disegnato centinaia di nuovi abiti esclusivi inseriti in una scenografia esuberante senza dimenticare le sue creazioni più iconiche dalla disco al punk dal pop al rock e alla new wave al punk Fashion Freak Show propone una playlist esplosiva di successi che hanno ispirato l'artista nel corso della sua vita che cos'è Fashion Freak Show? è la mia vita la mia intera esistenza conoscerete tutto di me avrete anche musica danza giochi il mio sacchiotto nana che è il primo conibra che ho fatto sapete bene di che si tratta quindi tutta la mia vita la conoscerete il mio segreto lo saprete tutti venite a guardare il mio Fashion Freak Show Vi lascio alle previsioni del tempo grazie per l'attenzione arrivederci Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimito per la giornata di giovedì che vedrà il ritorno di ampie zone di sereno su tutto il nord Italia sarà davvero una bella aggiornata di sole dalle nostre parti e tra l'altro con temperature che arrivano anche a toccare superare localmente i 15 gradi e così anche in Lombardia situazione tranquilla con bel tempo da mattino a sera temperature basse al primo mattino però poi anche qua toccheremo i 15-16 gradi venerdì si parte bene ma poi nuova perturbazione in arrivo a fine giornata tornano anche le prime gocce di pioggia per sapere a questo punto nel dettaglio cosa capiterà da voi aggiornato scaricate la nuova app di Trebimeteo grazie a tutti Autore dei sovrapposti